Alla fine ha scelto di fare le valigie, sembrava ad un passo la conferma dell'attaccante Loris Palazzo ed invece anche lui ha deciso di lasciare il Biceglie, dove resta il difensore Daniel Ola a guidare da capitano, un gruppo composto da molti giovani che proverà nei prossimi cinque mesi a raggiungere il traguardo della salvezza. Nell'ultimo giorno, dedicato al mercato dei dilettanti, intanto il direttore sportivo Vincenzo De Santis ha completato numericamente all'organico con i ritorni del centrocampista Rodolfo De Vivo e dell'attaccante Vincenzo Gadaleta. Il primo aveva lasciato il gruppo la scorsa settimana perché era stato poco utilizzato dal tecnico De Luca, il secondo è rientrato dal prestito al Barletta. Presi anche il terzino ex Fidelisandria Saías dal Gubbio e il gioli di centrocampo Gianmarco Lancellotti dal Rio Nero, quasi fatta per il difensore centrale Fabio Lamorte. Molto attive nell'ultimo giorno di mercato anche le società di eccellenza, il Barletta chiuso per il portiere juniors senegalese di Uffe potrebbe pescare nei prossimi giorni dal calderone degli svincolati. Piace sia il terzino destro Paletta, altro 97 e compagno di Diuf Alchietti che c'è Icfaiè della primavera dell'Avellino. Ad un passo l'accordo con il centrocampista Rescio. Oltre alla cessione di Gadaleta hanno lasciato il club bianco-rosso anche Martinelli, Cesarone e Cifaratti. Restano Sguera e Rizzo nonostante le richieste di Bitonto e Casarano. Triplo movimento in entrata per Unione Calcio Bisceglie che rinforza il centrocampo con l'esperienza di Bartolo Dorusso, ex Andri ed Altamura e prende l'attacco due giovani interessanti come Yeva e Sar. Svincolati, Riondino, Diella e Del Bene saluta anche il veterano Malerba per esigenze lavorative. Raffica di mercato, non riesce al team Altamura l'assalto a Bozzi che rimane a Manfredonia. I Murgiani rinforzeranno l'attacco con uno svincolato. Il Gravina ingaggia il centrocampista Juniores Trani e cede la Salandra alla Fortis Murgia. Il Grottaglie rivoluziona l'organico con gli innessi dei difensori Papa e Merico del centrocampista Di Pietro e degli attaccanti Radicchio e Bottiglione.